Come ti senti a questo tornammento? Sono una buona settimana per me, perché ho vinto il primo titolo la settimana in Basco e ora il secondo titolo. Mi senti sono incredibili, non posso descrivere direttamente, ma sono davvero contento. Cosa significa un tornammento come questo? Inizia per ogni giocatore per fare una buona e professionale carriera, quindi è un passo molto importante per me per venire questo tornammento per la prossima carriera. Quali plani hai per il futuro? Io andrò in Austria prossima settimana, a Bad Waltersdorf, e poi due giorni di tornammenti in Slovacchia. Ti stai fredato? Ovviamente, ho giocato 10 matchi per due giorni, ovviamente sono fredato, ma è parte del mio lavoro e parte del tennis. Per prima volta, quando sei qui in Curta d'Argesi, ti piacevi? Ovviamente, il hotel è stato fantastico, c'è una buona città, una buona città, quindi tutto è stato davvero 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 bene. E la ultima domanda. Ti piace principalmente Vitalis? Ovviamente, mi piaceva. Ho conosciuto per alcuni anni, abbiamo anche in Slovacchia, quindi mi piaceva. Grazie.